Grazie a tutti. Ho intitolato Dieci donne che fanno l'Europa, questa Europa che cerca una propria identità, una propria ragione d'essere. Grazie. Monica è qui insieme a due delle coautrici, ce le vuoi presentare? Allora, buonasera, io mi chiamo Monica Frassoni, sono con Giovannella, salve, Giovannella D'Andrea e Isabella Lenarduzzi. Avete una copia del libro, così lo guardiamo. Vorremmo parlare, o c'è stato chiesto in realtà di parlare di questo libro che si chiama Europee. Con il tuo permesso, il libro lo faccio circolare in sala, vedrai che tornerà. Sì, sì, non c'è nessun problema. Tra l'altro me l'hanno già preso uno, spero che almeno lo leggono, l'hanno lasciato su una seggiola. Allora, molto brevemente, questo libro è nato, l'idea di questo libro è nato dopo le manifestazioni che si sono svolte proprio qui a Roma nel marzo del 2017 e tornando da Bruxelles io ho trovato il marito di Giovannella in aereo e è una delle autrici del libro che si chiama Francesca, è una giornalista e Giovannella è venuta a prendersi all'aeroporto e in macchina nel percorso verso Bruxelles, non so come, è venuta questa idea di dire ragazzi abbiamo fatto questa manifestazione, sta bellissima, ma non basta, dobbiamo fare di più e dobbiamo dare quest'idea che in Europa si fanno delle cose utili e ci sono delle persone normali che fanno delle cose ovviamente non perfette, però che possono essere interessanti. Quindi questa è un'idea, abbiamo cercato altre persone tra le nostre conoscenze e le nostre amicizie e quindi questo libro che ha un nome un po' presuntuoso, ma non ce ne importa nulla perché pensiamo che sia vero, appunto dieci donne che fanno l'Europa e raccontano un po' la nostra vita, la nostra storia, il nostro incontro con l'Europa e poi anche alcuni capitoli dove si dice quello che ci piacerebbe che fosse o perché, insomma qualche idea, qualche progetto, idea. Monica io te ne presento altre due di donne che fanno l'Europa, sono qui accanto a te, sono Stefania Bevilacqua e Elena Pompei insieme a loro converserete intorno a questo volume che credo le abbia interessate molto, vero ragazze? Iniziamo. Grazie per l'idea del libro. Io volevo chiedere una cosa, perché noi sappiamo che l'Unione Europea è stata fondamentale per i diritti delle donne, senza l'Unione Europea oggi non saremo qui, libere. Vi volevo chiedere, in modo tale che tutte le donne possano conoscere questo percorso, di citarmi qualche provvedimento del Parlamento, del potere legislativo, che effettivamente hanno reso possibile questo per le donne, quelle cose che le donne non sanno, che hanno grazie all'Unione Europea. Sì, l'Europa è stata fondamentale, io sono Isabella Lenarduzzi, sono imprenditrice sociale, terza generazione di italiani in Belgio, che mio nonno è arminatore, friulano, è mio padre, creatore di Erasmus. Loro hanno fatto quasi tutti il progetto Erasmus. Sì, immagino. E dunque sì, penso, cioè io ho fatto la parte su chiaramente l'ugualianza tra donne e uomini, l'importanza dell'Europa per questo. Penso che sia un valore fondamentale dell'Europa. Prima, nell'altra sala, si è detto tanto che la perdita di questa fede nell'Europa viene sicuramente dalla perdita di questi, non sappiamo quali sono i valori dell'Europa, non abbiamo più una visione comune, eccetera. Io penso che passa attraverso i diritti umani e come primo valore centrale c'è l'ugualianza tra donne e uomini. Senza l'Unione Europea ci sono tanti paesi che non avrebbero forse tuttora ancora la necessità di pagare la stessa cosa per lo stesso lavoro da una donna e un uomo. C'è anche l'assicurazione dei diritti riproduttivi, della sicurezza delle donne sul lavoro quando sono incinte. Adesso c'è una proposta di direttiva per avere finalmente, per la prima volta per tutti i paesi, qualche giorno di congedio paterno. Dunque c'è una volontà da parte dell'Europa di fare tanto. ha fatto tanto, ha fatto tantissimo, con piano d'azione e una visione per l'ugualianza veramente ogni volta molto forte, ma dall'ultima legislatura invece non c'è più quella forza là. Perché purtroppo l'Europa, come lo sapete tutti, si decide nelle varie capitali. E dunque non è perché il Parlamento europeo è in favore di qualcosa, la Commissione europea è in favore di qualcosa, il Consiglio, perché giustamente come diceva Monica sull'altro palco prima, per questa assurda regola dell'unanimità, basta che ci sia Malta, Malta dove non c'è ancora l'aborto legale, basta che ci sia Malta che dica di no, siamo tutte quante... e questo non va, non va assolutamente. Dunque se vogliamo avere più Europa, bisogna ripartire dai valori fondamentali, tra i quali c'è queste pari opportunità, al di là delle pari opportunità, l'ugualianza non soltanto dei diritti, ma concreta tra donne e uomini. Allora io riprendo un pochino a quello che stava dicendo lei, diciamo ci sono stati dei casi, per cui come diceva lei appunto è vero che è comunque un'unione di stati, che sono stati nazionali, che hanno poi la loro sovranità e le loro regole interne, rispetto a questo nell'ultimo periodo abbiamo visto che ci sono stati degli stati, perdonate già quelle parole, che hanno in qualche modo guidato, un'iniziativa che si è poi propagata intorno e nell'ultimo periodo abbiamo proprio visto qualcosa accendersi, in certi modi, dalla tassa appunto sugli assorbenti, che può essere una banalità, eppure da donne ci accorgiamo di quanto valore abbia, non soltanto in via di principio, ha appunto come fosse una risposta un po' a una tendenza, diciamo a una nuova soppressione, che per un po' magari avevamo dimenticato di avere. E quindi quali sono i grandi passi, le grandi priorità che in questo momento l'unione deve avere verso le donne? Allora, la prima cosa che vorrei dire è che non è vero che l'Europa è solamente un'Europa di stati, anzi, se lo diciamo rafforziamo quelli che lo pensano e quelli che ritengono che non ci sono gli strumenti perché l'Unione Europea, già oggi, possa essere meno Europa di stati di quello che è. Credo, francamente, che sia una questione anche di iniziativa dei cittadini e delle cittadine. Io, nella mia, quando io stavo al Parlamento Europeo, ma sicuramente anche Isabella e Giovannella hanno avuto modo di vedere che in molti casi i cittadini se ne fregavano abbastanza del fatto che erano francesi, italiani, teschi, andavano al Parlamento e fine. Dopodiché è vero che ci sono molte, infatti questo è il problema fondamentale dell'Unione Europea, il modo attraverso il quale si decide fa sì che non sempre queste maggioranze di cittadini possono averla meglio. Allora, sulla questione delle donne, come giustamente ha detto Isabella, anche qui vorrei sottolineare il fatto che la questione dell'uguaglianza e della retribuzione tra uomini e donne è una cosa che sta nel trattato dal 1957. Quindi immaginatevi, non è una cosa nuova. E peraltro ancora non è stata del tutto raggiunta, manco in Svezia, per tutta una serie di ragioni. Però giusto per farvi notare che rispetto a questa normativa così che pareva ovvia, no? Uomini e donne, stessa paga, già dagli anni 50 è una cosa acquisita, oggi non ancora raggiunta, però tutte le normative di cui ha parlato Isabella sono state ultra difficili da ottenere. Non è stato quasi niente, è caduto dal cielo. Cioè tutte queste sono conquiste. Quindi quando tu dici quali sono le priorità per l'Unione Europea, per le donne, io mi sento di dire che sono le stesse priorità per gli uomini. Nel senso che sono la priorità di avere un'unione che funziona e che riesce a decidere, che si ricentra, come ha detto anche Isabella, voglio veramente sottolinearlo, sui suoi temi prioritari, che sono, se voi leggete l'articolo 2 e l'articolo 3, dicono chiaramente che è il benessere dei cittadini, no? È il fatto di buttare fuori la gente, di vedere e definire chi è e chi non è che può stare. Insomma, ci sono una serie di cose che l'Unione Europea deve fare che ha un po' perso per strada e che si applicano appunto ai diritti. Allora, io penso che la questione della paternità-maternità sia sicuramente un tema importantissimo. La questione della parità di accesso al lavoro, chiaramente bisogna che il lavoro ci sia, è chiaro, però è molto importante anche quello. Io vorrei fare un esempio molto veloce e poi passare la parola a Giovannella perché lei ha delle esperienze concrete anche di che cosa fa l'Unione Europea fuori dai nostri confini, anche se non tanto lontani. Allora, il tema che c'è adesso della partecipazione delle donne al lavoro, al potere, eccetera, è un qualcosa che dipende dalle donne. Oggi le ragazze, non solo, Isabella, però dipende molto anche dalla nostra capacità di azione. In Italia, credo che ci siamo un po' addormentate in molte cose dal punto di vista delle rivendicazioni, e siamo anche per questa ragione uno dei paesi dove c'è la minore livello di occupazione delle donne, la migliore livello di attività, il fatto che le ragazze, adesso per esempio in magistratura ci sono più donne che uomini, praticamente siamo 55% donne in magistratura, ma il 27% delle donne sono in una posizione di leadership e l'80% sono gli uomini, anzi 73%. Quindi, insomma, voglio dire, ci sono tante cose che possono essere fatte nel quadro di un'Unione Europea ancora imperfetta, ma che ti permette di farlo in qualche modo. Quindi il mio messaggio è si può, si faccia. Tutte le leader in questo momento, per esempio, di tutte le marce climatiche di ragazze delle vostre età sono perlomeno in Francia e in Belgio, che sono i due luoghi che anch'io frequento di più, sono tutte guidate da donne. Quindi ragazze, anzi, ragazze molto giovani. Forse posso dare la parola? Sì, vabbè, giusto un'aggiunta, in effetti vi invito a leggere anche il capitolo di Marina Marchetti che è nel libro, che è una delle nostre, delle coattrici che ha scritto proprio della sua esperienza, perché lei lavora alla Commissione Europea, alla direzione che si occupa di cooperazione e lo sviluppo, e lavora proprio nella divisione che si occupa di diritti delle donne, nell'ambito delle politiche e di cooperazione. E di fatto è interessantissimo appunto leggere quanto sia dalla sua esperienza importante il ruolo che svolge l'Europa in paesi terzi dove le donne, ancora più che in Europa, si trovano in situazioni di estrema difficoltà e di svantaggio e quante cose positive l'Europa faccia di cui effettivamente si parla pochissimo, che sconosciuta la maggior parte di tutti noi. e quindi questo sicuramente è importante. Poi io stessa ho lavorato per tanti anni proprio assistendo paesi terzi nelle loro riforme legislative di approssimazione, di armonizzazione delle leggi, di riforme, quindi in merito in particolari settori, settore dell'energia, dell'ambiente. Comunque ho lavorato diciamo all'interno delle amministrazioni pubbliche molto spesso a fianco di donne ho anche notato tante volte quanto le donne siano in realtà un motore importantissimo in paesi meno sviluppati dai Balcani al Nord Africa, quanto siano quelle più preparate tante volte, quanto siano insomma quelle che hanno più voglia di imparare e di apprendere. tuttavia anche lì magari sono quelle erano le persone con cui ho lavorato meglio ma sempre in posizioni molto meno decisioni, ovviamente non in posizioni apicali e comunque sempre ridotte dei ruoli marginali rispetto alla maggior parte diciamo rispetto agli uomini. L'unica donna con la quale ho lavorato che aveva un ruolo da direttrice in Kosovo al Ministero dell'Ambiente in realtà con cui sono diventata tra l'altro grande amica che in questo momento è a Roma perché sta qui all'ambasciata diciamo la delegazione del Kosovo è una donna intelligentissima preparatissima con la quale ho lavorato tantissimo ma che proprio perché era riuscita non so sia per quale miracolo ad arrivare a queste posizioni in Picali perché poi in Kosovo aveva un discorso anche di clan e di supporti e quindi evidentemente aveva i supporti giusti tuttavia subiva degli attacchi incredibili è stata poi obbligata a un certo punto a lasciare e all'interno del Ministero si sentiva proprio una grandissima ostilità nei suoi confronti quindi ancora c'è tanto da fare finisco io e poi mi chiedevo siamo in procinto degli europei quindi da giovani da universitari questa per noi è una grandissima questione aperta cosa possiamo fare cosa c'è un'iniziativa bellissima che stavolta voto della Commissione europea che coinvolge in qualche modo i ragazzi e ne faccio parte per cercare di far sapere che ci sono delle elezioni banalmente perché in Italia abbiamo questo grandissimo problema della consapevolezza e dell'informazione oggettivamente in merito in materia europea e quindi la mia domanda è soprattutto in merito all'ambiente in tema di ambiente quali sono le grandi proposte da affrontare come affrontarle qual è il linguaggio adatto per farsi strada in un discorso politico che diciamo cerca di di planare più sui toni che sui temi allora in questo momento nella città dove noi viviamo sono in atto una serie di scioperi sul clima e questi scioperi sul clima sono guidati come dicevo prima da due ragazze una fiamminga e una belga e una vallone francofana non so nemmeno se sia della vallonia e loro si pongono perché io l'ho sentito parlare in paio di occasioni questo tema non tanto delle elezioni ma dell'Europa come spazio dove questa sfida dei cambiamenti climatici o dello sconvolgimento del clima e quindi della necessità di trovare delle strade per fermarlo si deve formare e quindi secondo me è uno dei nei modi più intelligenti anche per i giovani io non sono più giovane quindi e anche quando ero giovane avevo un po' così a parlare da giovane mi dicevo io sono una signora cioè e quindi non so se questo tipo di linguaggio serva o no ma io osservando quello che loro fanno quello che loro dicono mi rendo conto che loro sono già in Europa nel senso che non è che hanno il problema di semplicemente dovranno decidere per chi votare ma il problema del potere che poi eserciterà sarà definito per poi gestire gestire questo problema è un tema veramente importante e quindi io se fossi probabilmente una giovane di questo in questo momento sceglierei quali sono i temi che a me personalmente senza guardarmi intorno che a me personalmente tengono a cuore e io sono sicura che al 2000 per 1000 quel tema avrà a che vedere con l'Europa perché il lavoro ha a che vedere con come si governa l'Europa se uno va da una parte o dall'altra si definiscono delle strade di sviluppo che servono alla crescita positiva e sostenibile oppure ci sbattono contro il muro il fatto di avere come donna la possibilità di gestire una famiglia avere una maternità oppure no anche quella dipende da un quadro legislativo il fatto di riuscire a essere liberi oppure di vivere in una società aperta o chiusa di appunto non so qualsiasi tema mi viene in mente a che vedere con l'Europa e quindi credo che trovare una o due cause per fare in modo che l'Europa funzioni meglio siano già un modo per approcciare l'elezione europea in un modo tale da renderla quella che dovrebbe essere e spesso non è e cioè una competizione è una competizione di progetti ed è una competizione di idee ed è anche una competizione di persone ora è chiaro che non è solamente il nostro paese ma diciamo in particolare nel nostro paese c'è quest'idea che si sta facendo anche in Francia così una battaglia fra pro-europei e anti-europei in realtà io credo che la situazione sia molto più complicata perché anche fra i pro-europei ci sono delle enormi differenze e credo che per esempio essere pro-europeo ma poi avere per esempio nei confronti della migrazione un atteggiamento chiuso oppure pensare che nucleare carbone petrolio possa ancora servire sia comunque una differenza ho parlato troppo però abbiamo toccato un tema che fa parte dell'identità europea lo ricordava anche Ulrich Beck pochi anni fa proprio intorno alle politiche ambientali l'Europa può trovare la propria ragione d'essere che non è solo politica ambientale ma è molto più ampio molto più ampio però la battaglia per il clima quello certamente può strutturare l'identità europea la missione dei nostri paesi sul pianeta era un tema che non era emerso con questa lucidità grazie quando quest'estate sono tornata in Friuli in Veneto dove abbiamo una casetta sul mare ho sentito un sentimento molto diverso di quello che vivevo prima con i miei amici che sono cresciuti con me là durante i vari estati io venivo da Bruxelles Bruxelles era diventato in qualche mese il diavolo e poi in quanto femminista doppio da diavola e c'è tutta una parte di questi amici di infanzia che ha messo proprio distanza con me e poi io ho trovato che quelli che erano ancora pro-uropei pro-apertura pro-cultura questi qua erano diventati silenziosi è vero che in queste due regioni qua un terzo della gente ha votato all'estrema sinistra all'estrema destra è enorme ma io l'ho vissuto veramente è cambiato la mentalità l'aria è cambiata completamente dal nuovo governo e io quello che dicevo a questi amici che ancora ancora credono nei valori positivi della società io dicevo non rimanere silenziosi perché se voi rimanete silenziosi è finita non è tanto perché si vede si sente su facebook per esempio io mio marito i nostri amici quando mettiamo delle cose pro-uropei ci facciamo aggredire dagli italiani in una maniera spaventosa non solo dagli italiani ma soprattutto dagli italiani ma con un'arroganza una cattiveria che è molto che è un denominatore comune di tutte queste di tutti questi nazionalismi di tutte queste destre malvagie che siamo chiamati bonnisti da loro ok se siamo buoni loro sono cattivi io preferisco essere buona e pensare in modo positivo all'umanità al nostro futuro e dunque noi dobbiamo noi che siamo che abbiamo ancora questi che condividiamo questi valori qua non per favore non rimaniamo silenziosi non ci lasciare devastare dalla dalla delusione non serve a niente anche se non sono più amici chi se ne frega forse una due persone rifletteranno grazie un po' su facebook un'immagine su instagram una discussione in famiglia una discussione fra amici perché noi portiamo un'altra visione del mondo perché noi portiamo una visione profondamente umanistica e questo è il femminismo il femminismo è soltanto un umanismo che vuole la stessa cosa per le donne la stessa dignità per le donne come per gli uomini non è nient'altro di questo l'Europa e l'ecologia è esattamente la stessa cosa e passare da una civilizzazione della dominazione io sono più forte di te io valgo prima gli italiani americani first noi invece gli ecologisti gli europei i femministi dicono no tutti assieme non c'è uno prima dell'altro è tutti assieme e se voi condividete questi valori bisogna gridarli forti adesso moltissime grazie io vorrei solo ricordare un'altra figura di donna che ha costruito come posso dire il movimento ambientalista in Europa in particolare ha partecipato alla fondazione dei verdi che è Petra Kelly Valentina Cavanna che è una giovane ambientalista italiana un'altra ragazza come dici tu ha appena scritto un volume è uscito lo scorso anno se permettere tramite i modi e a Veronica ve ne faremo dono d'accordo così anche Petra Kelly farà parte del coro di queste dieci donne undici dodici tredici e tutte le altre che stanno costruendo l'Europa grazie di cuore anche a voi per aver partecipato a questa notte europea delle idee per l'Europa tu volevi aggiungere vai io avevo preparato una bellissima domanda tecnica sul Parlamento europeo e sull'iniziativa legislativa non la faccio prevale il cuore sul discorso di chi è la colpa io sono un po' mediana tra le vostre posizioni la colpa è delle donne perché le donne appena no è tutte e due è sempre la colpa delle donne no no di tutte e due la colpa è delle donne perché si fermano guardi glielo dico perché io sono incinta le mie amiche mi hanno chiesto se io guido a me fa sorridere questa domanda poi la colpa è degli uomini perché non riescono a cambiare prospettiva il paradigma è sempre lo stesso quindi vorrei un consiglio da voi io vorrei essere una donna che fa l'Europa cosa devo combattere un consiglio in 30 secondi cosa deve combattere ma in realtà io come avvocato ho lavorato in Europa dall'inizio della mia carriera devo dire che ho incontrato molte difficoltà le ho incontrate le ho incontrate perché negli studi legali si tratta di qualche anno fa ancora e comunque in Inghilterra una donna del sud eccetera trovava sicuramente degli ostacoli e non era vista alla pari degli altri questo è poco ma ho dovuto sempre fare più fatica per affermarmi e per fare non bisogna mai fermarsi bisogna bisogna in fondo dimenticarsi forse alla fine di essere donna e far finta di niente e andare avanti e far finta che insomma chi vuole trattenerti e comunque ostacolarti non sia davanti a te semplicemente quello andare avanti per la propria strada e crederci credere in te stessa fondamentalmente in quanto donna mai abbandonare il lavoro perché l'indipendenza passa attraverso uno stipendio quando uno è indipendente finanziariamente significa che è libero o libera questo è fondamentale prima cosa seconda cosa scegliere bene il proprio partner spero che il padre del bambino o della bambina sia un vero partner e con questo poi tante altre cose ma questo è già la cosa fondamentale poi si può cambiare partner io ho dovuto cambiarlo perché ho fatto uno sbaglio non è grave vi assicuro non è grave ne ho ritrovato un altro cambiare si può conclude all'insegna del sano pragmatismo congratulazioni grazie di nuovo ancora a tutte